Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo, passate su fifacoin.com E con il codice GRANANAS avrete il 15% di sconto BOOM! Bella vecchi trapani, siamo i grassi e siamo tornati qui con un nuovo pack opening E questa è la seconda parte dei pacchetti mega disponibili Incredibile Faccia comba? No, ci li gustiamo piano piano, capito? Qui c'è Griezmann che dice la sua e ci fa trovare Distin Ma anche quello del trio E' altro, Giovanni e Giacomo No, era una fusione tra Aldo, Giovanni e Giacomo La penna, la corda, la piega, Messi c'è, Messi c'è Milan, non troveranno un'infe, neanche se muo' Oh, Rudy Garcia, ma dove lui c'è sta? Rudy Garcia, si ma che hanno montato male sull'immagine, guarda davanti è basso Ma pure se è basso lui E no, ho capito, ma pure se è basso mettevo al centro bene, cioè per questo si dice Photoshop BACCAAA Cioè ci stiamo esaltando per bacca Capito come siamo messi E datecelo uno, siamo tutti fuori messi tipo le, oh, 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 dai Siamo a fine FIFA, quasi, quasi finito questo FIFA Ma datecela Cazzo che frega Una soddisfazione Cominciate a dare Ronaldo E dai I turbe RUNEI, finalmente Sopra gli 85 Troviamo uno che vale Esattamente 7000 RUNEI, NONFIE Questo hanno preso veramente alla sprovvista E sarà di Giro per farti la foto, COSAAA E mi hanno fatto la foto Va bene, va bene, è tutto apposta, abbiamo risolto Apposto, sti cazzi, tanto nessuno ti userà su ultimi team, vai tranquillo Bobo Oddio, pure deve Oddio, pure deve Puttana Sei buggato Marquez, Dawson, Crick, Johnny Danino Merit e Sato Hai flashato pure te, Osil Che tanto mi pare il cazzo Non posso flashare Osil, certo Aprillo quello mega Fallo, fallo Fallo per noi Fallo per noi Fallo per noi Fallo per noi Oh Tutti i brai, ma no E il serano però che Rocco gioca con i Reds Che stai facendo? Voglio aprire un aggiornamento d'oro Offiamolo A me non so, sicuro che troviamo solo giocatori Mandalo Che è da Faberino Che non so proprio cosa dire Cioè tu mi dai 11 giocatori d'oro Ma non è che mi li dai magari dalla stessa lì No, d'Europa Va, tanto Un aggiornamento d'argento per noi? Eccolo Neanche un italiano Bellò Neanche un italiano Bellò Pazzacca, mamma mia come sta Quest'anno ho preso te fuori dal locale In sabato sera Sì, lo d'Arcocorico Questo? Ma che verde Hanno messo male le luci Cioè, lui e Keita, capito Ci hanno fatto intervista doppia e iene Lui c'ha lo sfondo giallo E questo c'ha lo sfondo verde Porco, c'è Lo troveremo un pacchetto Ecco questo c'è Davide Ah, la pacchella manda Vukovic Dai Ti prego, FIFA Ti prego Dai Ma poi pregava, FIFA Cioè Gomets Mi sono tagliato Ho visto L'immagine su calciatori brutti Anche se ho fatto schifo Che sono infortunato ogni due mesi So che tu bel coglione Mi riprenderai al fantacalcio Oh Benzema e Barzagli Allora, questo si chiama un pacchetto degno di nota Ci sta Ci sta Allora Andiamo con un oro Guardate come devo stare per arrivare un pacchetto Perché è quasi scarico il joystick Grande pacchetto Boom Rode me, rode si Non riesco a trovare nessuno Non riesco a trovare nessuno Oh, soldato Hey, Robert Royce Questo vale, eh 17 Massa Una cifra Hazard Porco cane Ho visto Calcola Guarda Soltanto Belgio E nome Ho escluso tutto il resto Ho portato la servizia qua Facciamiamo Boom Meier Mi manca il Cristo Vab Boh 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 Eccolo Boh Boh Mo se hai bisogno Boh Boh Concentrato Non c'è nessuno Non c'è nessuno Cioè Ripassiamo perché magari per sicurezza E scudero Guardalo Questo è un taglio illegale in 40 paesi Eh, 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 vabbè Eh, vabbè Eh, vabbè Vai, Guain Vai, Guain Non c'è un cazzo Ciao Pinta Silvio Come si chiama quello Pinta Silvio Azar, 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 azar Non c'è un cazzo 5.000 Mi frega niente No, che fai scherzi? 5.000 5.000? 5.000? 5.000? La crimea La piccola La vezzi Oh, cazzo Puttana Basta con sti scherzi Marjorati Oh, Marjorati era forte Ti ricordi quando Se andiamo a far culo Facciamo i bronzini Seria Poi Mamma mia Moretti La Pirena Moretti Wow Wow, quanta wow Warren Blue Wimbledon E finisce qui Vabbè ragazzi E niente Lasciate un like di incoraggiamento Anche se non possiamo riuscire a trovare nessuno Anche questa volta Ma abbiamo trovato però Runei 86 E' il più forte E' prima Grandissimo E abbiamo trovato poi Royce Che forse è quello che vale di più di tutti Lasciate un like se questo video vi è piaciuto Noi ci becchiamo al prossimo E dai grazie a tutto Bella Ciao